E' partita questa mattina presso il plesso Spinelli dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII a Leotta, a Chiaiano, la piantumazione delle prime essenze arborie nell'ambito del progetto Cresciamo con gli alberi. E' un'iniziativa rivolta alle scuole di tutte le municipalità che l'amministrazione comunale ha promosso per coinvolgere i cittadini nella cura e tutela del verde. La manifestazione, lanciata dal comune, ha registrato da subito un forte interesse. Sono circa 50 gli istituti scolastici che hanno fatto richiesta al servizio verde della città e che, previo parere favorevole dei SAT, delle varie municipalità, saranno gradualmente interessate dalla piantumazione di nuovi alberi. Abbiamo fatto appena terminato l'iniziativa della piantumazione del giovane albero che crescerà attraverso la cura quotidiana dei bambini all'interno della scuola. Ovviamente questo è stato un lavoro molto importante e simbolico perché aiuterà, per quanto riguarda il senso che vogliamo dare a questa iniziativa, aiuterà i ragazzi, i bimbi a crescere con una visione ambientale, con l'importanza del verde anche come rispetto della natura e del decoro, non solo come qualità della vita e anche qualità dell'aria, dove ovviamente il nostro braccio sono gli insegnanti e le scuole e la preside.